Si è rivelato più serio del previsto l'infortunio corso all'estremo bianco-rosso Gomis con la società del presidente Luciano Campitelli che potrebbe a questo punto decidere di tornare sul mercato per reperire un nuovo portiere considerando che il giocatore senegalese dovrà star fuori per un bel po' di tempo. L'ecografia ha infatti evidenziato una lesione di terzo grado del quadricipite della gamba sinistra con i tempi di recupero che si preannunciano non brevi per il portiere bianco-rosso Scuola Torino. Al suo posto il tecnico Giovanni Zichella farà esordire domani sera alle 20.30 al Bonolis contro la Fermana nella gara di sordio di Coppa Italia il giovane Vittorio Natale classe 2001. Oltre a Gomis nella sfida con i marchigiani mancheranno Caidi che è influenzato e Barbuti infortunato. Sul fronte mercato la trattativa per portare in bianco-rosso il jolly difensivo Alessandro Fiordaliso anche lui Scuola Granata dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana. In uscita sempre Amadio, Tulli e Mancini. Intanto il Teramo pensa anche al nuovo campionato che partirà in ritardo. Il consiglio direttivo tenutosi ieri a Firenze infatti posticipato al weekend dell'1 e 2 settembre l'inizio della stagione ma ha anche annunciato grosse incertezze che mettono in effatto a rischio l'inizio stesso del torneo. Per quanto riguarda i gironi del nuovo torneo la formazione bianco-rossa dovrebbe essere inserita nel raggruppamento B assieme ad Albino Leff, Feralpi, Salò, Fano, Fermana, Gubbio, Imolese, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, San Benedettese, Sud Tirol, Ternana, Triestina, Vicenza, Virtus Verona e Vispesaro.